Oh yeah Vorrei ricordarvi che il 16 mattina La mattina del 15 Il 16 agosto Ci sarà un party A Rio Grande Un after hour organizzato da Leku Dal Diabolica e dal Bevizzi Il primo after hour in agosto Il 16 agosto a Rio Grande Di Gia Marina Il 16 agosto after hour A Rio Grande di Gia Marina Ok vorrei ricordarvi Un appuntamento importante Voi sapete che tutti i lunedì Qui a Leku C'è Tony Humphrey Un DJ Il best DJ in the world Tutti i lunedì a Leku Qui Tony Humphrey Il quale verrà ospite Il 16 agosto All'after hour Che organizzeremo A Rio Grande A Rio Grande A Gia Marina Vicino a Rimini Il 16 agosto At the hour Kid Vassolo Ricky Ricci Tony Humphrey Il 16 agosto Igor Sol Mr. Ricci Il 16 agosto Il 16 agosto I Coro Isola Let Work Learn It Financial Does Work Let Work Let Work Diesel paint high Ecot mix e tutti gli amici dal Veneto venuti a Legos Igo Sanrucci come on let's watch Igo Sanrucci Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti